La lotta alla mancanza di rispetto nei confronti delle donne si gioca su due piani, uno repressivo, che deve esserci, ma uno anche culturale, che non può essere da meno. La sfida è quella di affrontare il problema alla radice, ossia su chi la violenza l'ha compiuta, educando e rieducando. Nasce così ad Arezzo lo sportello Arum, assistenza e recupero uomini maltrattanti. Nasce da una proposta che ci ha fatto il Centro Italiano Femminile, che si è messa a disposizione di formare degli operatori e poi successivamente di aprire questo sportello, che è figlio della legge Cartabia e quindi nella convinzione che ovviamente chi si macchia di un reato che ha a che fare con il poco rispetto nei confronti delle donne, che potrebbe essere anche un preludio di atteggiamenti ancora più aggressivi, ha a che fare con una cultura di ignoranza che va combattuta. Oggi è chiaro che il tema del femminicidio, che è l'estrema esperienza, ma che non è meno grave di altri, ma soprattutto che sta dentro un percorso di poco rispetto, si batte con la cultura. Allora questa è una scelta, insieme all'assessore Carlettini, di fare di questa città una città dove anche l'aspetto strettamente culturale, che fa parte del pacchetto normativo, venga rispettato. Tutto avverrà al polo dell'economia immateriale in via Pellicceria, che si sta qualificando come un luogo dove l'immateriale, che ha a che fare con i diritti, con la cultura, con tutto quello che è legato alle persone e alla loro crescita, si sviluppa. Il progetto prevede l'apertura di uno sportello di consulenza, ascolto, assistenza e sostegno psicologico per uomini responsabili di reati o fatti commessi a danno delle donne o delle categorie vulnerabili. Si parla di reati minori un po' come la giustizia riparativa legata al codice della strada. Siamo di fronte a quei reati che in qualche modo hanno a che fare con una deficienza culturale. Quindi non sono reati che si sono iscritti in atteggiamenti di violenza specifica, ma pure questi sono considerati reati sentinella. Sarà il Tribunale ad inviare gli uomini allo sportello, che offrirà servizi di prima consulenza e prima accoglienza, colloqui individuali di valutazione per una prima rilevazione della violenza e per la valutazione del rischio. A questo seguiranno una serie di incontri che avranno per oggetto l'analisi di tematiche predeterminate, finalizzate ad aumentare il livello di consapevolezza dei propri comportamenti. Alla fine i partecipanti saranno invitati a continuare un percorso successivo, sempre di gruppo ma più libero, mantenendo comunque il focus sulla violenza. Il fatto di avere questo servizio su Arezzo permette di non avere scuse e soprattutto di avere un'opportunità nel territorio.